Ogni partita abbiamo una strategia, penso che, come ha detto quasi tutta la stagione, tutti hanno detto che la Roma era una squadra che giocava meglio o più offensiva, ma in queste due partite abbiamo preparato una strategia diversa contro una grande squadra come Ajax, più nel secondo gioco perché abbiamo vinto il primo e la verità penso che è un risultato, ma noi abbiamo la nostra identità, non è questo che caratterizza la nostra squadra, ma quando abbiamo bisogno di fare una strategia diversa come abbiamo fatto, non c'è problema. Questa è una stagione particolare, io posso dare molti esempi di squadre che andano avanti nelle competizioni europee, per esempio prima di questa partita dell'Europa League, Villarreal ha perso con l'Assassun a casa, Bayern prima di questa partita ha pareggiato a casa, Arsenal sta in decimo posto, è così con le squadre che andano avanti durante la stagione con tante partite e dopo succede altre cose, queste squadre che giocano tre in tre giorni hanno meno giocatori disponibili, io adesso solo penso nel campionato, penso le migliori scelte per domani, pensando nella questione fisica, nella questione tattica, lo più importante è domani, solo penso nella partita con Torino, come ho detto è importante capire che la partita con Ajax è finita, dobbiamo ritornare al campionato, abbiamo obiettivi nel campionato, io voglio questa concentrazione della squadra adesso solo nel campionato e nella partita con Torino. è la stessa concentrazione, la stessa determinazione, la stessa aggressività difensiva, è importante la squadra avere sempre una partita sicura difensivamente e come abbiamo fatto bene contro i Ajax penso che possiamo migliorare nel campionato questo tipo di questioni.